Grazie Il decadimento assoluto Il decadimento Ma che è bello, qua sembra un'altra cosa più bella Sì Tu lo sanno che frumi? No, che bello, una ripresa No, mi chiede queste che frumi Non lo so, non però Se è il mio creduto me lo fa vedere Non lo so, non lo so Non lo so, non lo so Non lo so Non lo so A me non mi piacciono in maniera definita Invece è la con un po' di combustione Non lo so Questa è la tenita Non è la macchina che passa Non ha meno fastidio Massimo Non lo so Cioè, finire è la seconda notte No, ci vedo Dov'è? Sì, in assolutore dell'ordine È giusto che la facciano Però ogni volta che li vedo io Mi turbo Ma ci vedo Sì Sì No, non lo so con un tabellone pieno di scatti questo ragazzone madonna, ci sono da prendere un'altra cosa che cos'è? ha detto in due minuti da questa ragazza aveva promesso che non avrebbe più avuto nella sua vita e ora guardatelo dov'è? ora andiamo a riprendere da mamma nive così, così per così per delle sue serate ragazzi veramente no non ti può fare più questa vita oh però statevi fermi mia fiaccole c'è viola fiaccole vieni Laura non mi voglio più allora me la tengo io sempre la sento veramente no? fiaccole la fiaccole ci sento veramente no? cosa, cosa? fiaccole, ce l'hai tu? buono ma li devi mettere in piedi mi chiede allora mi alza anzi cosa fanno le persone per 3-4 volte ti accolta? ti accolta? no, non la vuoi Giu G ti accolta? grazie a tutti 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 Grazie a tutti. A me questa qua è partita. Grazie a tutti. 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 Andiamo. Grazie a tutti. 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 Paura. Paura? 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 e... ... 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 ......